Martino Zucco Chinà, per il momento l'unico candidato sindaco nel centrodestra, anche se si parla di liste diverse, una candidatura che nasce all'insegna della continuità, diciamo subito. Sì, diciamo subito di sì, anche se questa etichetta di candidato di centrodestra, in un momento come questo di grande confusione dal punto di vista ideologico, l'atterrei riservata a quelli che sono dei valori civili e sociali della destra, più che quelli politici. Di fatto però siamo in continuità con la precedente amministrazione. L'esperienza di Bertot si è conclusa in un certo modo, che a noi ancora destra grosso dolore, anche sul piano personale. E' una vicenda che di fatto non è stata chiarita, oggetto di un provvedimento politico, non giudiziario. E pertanto, essendo il nostro comune commissariato per volontà politica, ricordo che a firmare il provvedimento è stato il Ministro Cancellieri, un Ministro della Repubblica che non è mai stata eletta da nessuna Assemblea Popolare, noi adesso ci rimettiamo al parere, all'opinione, al voto dei cittadini rivarolesi. Vogliamo chiedere ai rivarolesi che cosa ne hanno pensato dell'amministrazione Bertot bruscamente interrotta, che cosa ne pensano del commissariamento che sta per esaurirsi e che cosa pensano del gruppo di cui io mi onoro di far parte, che avrà una componente particolarmente rinnovata, ma che agirà sullo spirito della precedente amministrazione. I legami con Fabrizio Bertot, che comunque rimane una delle anime di questa lista. Un anno fa, quando ci ponemmo il problema di come riproporci, le persone di quel gruppo, quelle rimaste naturalmente, chiesero a me disponibilità a candidarmi come sindaco. Io posi una pregiudiziale, e cioè che Bertot facesse parte del mio gruppo, della nuova lista, perché esattamente per le cose che dicevo prima, io ho bisogno, noi abbiamo bisogno di esprimere una posizione che è stata la nostra dal punto di vista amministrativo, una filosofia amministrativa che, giusto o sbagliata che sia, è profondamente diversa, sarà profondamente diversa da quella degli altri concorrenti. E quindi le carte dovevano essere grossomodo le stesse, proprio perché, per rafforzare quel tipo di messaggio. Voi quindi vi ricandidate con un programma nel segno della continuità, il vostro pensiero, se ho capito bene, è questo. Dopo tanti giudizi mediatici, chiediamo il giudizio dei rivarolesi. Certo, fino a prova contraria, l'Italia è una repubblica democratica, il provvedimento lo abbiamo sofferto, lo abbiamo accettato, diciamo così dal punto di vista burocratico amministrativo, però adesso noi chiediamo che sia ogni singolo cittadino di Rivarolo a dirci, a dirmi, Martino ti apprezzo ma è meglio che vai a fare altro, Martino penso che tu possa meritare questa chance di governare Rivarolo. Voi state già lavorando a un programma, c'è un gruppo che lavora da tempo? Sì, come dicevo noi siamo ripartiti un anno fa, nel senso di rimettere insieme i pezzi, naturalmente quelli che si sono resi disponibili. C'è questa voglia di rivincita. Il programma in parte è quello che non siamo riusciti a realizzare perché interrotti dal commissariamento, in parte è nuovo, riveduto alla luce di quello che nel frattempo si è generato dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale in Italia e quindi noi prendiamo atto che la situazione è cambiata, è cambiata in peggio, ma questo non modifica la nostra filosofia e cioè noi non accettiamo di governare Rivarolo, non accetteremmo di governare Rivarolo come in virtù di un'azione notarile. Io non mi candido a diventare il notaio di atti, di provvedimenti presi dai funzionari sulla base del fatto che non ci sono più soldi, che non ci sono più risorse. La nostra filosofia è quella. In un momento di crisi, e crisi in greco vuol dire cambiamento, noi dobbiamo avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di andare a vedere tutte le potenzialità che a Rivarolo, innescarle e farne diventare un volano virtuoso per la ripresa occupazionale, perché certamente il lavoro sarà alla base del nostro programma, il lavoro inteso sotto tutte le sfaccettature. La riproposizione del commercio che ha reso Rivarolo capitale, questo grosso servizio di tipo scolastico, che dall'asilo nido fino alle scuole superiori offre Rivarolo non solo ai suoi cittadini, ma a tutto il bacino, dovrà sempre essere tenuto in seria considerazione perché è non solo un servizio sul piano istruttivo e culturale, ma è anche un volano economico al quale noi riteniamo di voler rafforzare la vocazione. Adesso concludiamo parlando di te, perché tu quando ti sei presentato come candidato sindaco ti sei presentato in modo molto particolare, ti sei quasi preso in giro da sola, insomma la prendi sul serio questa sfida, ma non è la tua sfida della vita? Io non credo che un uomo debba avere una sfida della vita, io la prendo molto sul serio, ma proprio perché la prendo sul serio, io ritengo che una capacità che nei politici si è vista poco in questi anni, sia quella dell'autoironia. Io ho visto troppo spesso i politici distanti dal popolo, dalla gente, per questa loro presunta superiorità. Io non sono superiore, io molto seriamente mi metto sul piano di tutti gli altri, a partire dai miei collaboratori, da quelli che saranno i miei consiglieri comunali e per fare questo io devo sviluppare una capacità, una dote credo che sia innata in me, cioè quella dell'autoironia. Le cose se si fanno seriamente però devono essere prese con il necessario distacco. Del resto è l'esperienza che io ho maturato dal punto di vista professionale. Non si gestiscono organizzazioni, non si gestiscono risorse umane, stando distanti. La dote di un leader, la dote di un capitano è quello di far parte della squadra. Non esiste un leader che non entri in spogliatoio con gli altri, non esiste un leader che prima non condivida gli obiettivi, non condivida i metodi, non porti a sé le forze e le risorse necessarie. È una società complessa, i fenomeni, l'ho scoperto in tanti anni di esperienza, non esistono, non esiste l'uomo solo al comando della corsa, c'è un uomo che in quel momento viene individuato come il capitano e deve avere il massimo rispetto dei gregari e il massimo rispetto della folla che gli si agita intorno.